Prima di iniziare vi voglio ricordare che questo è uno degli eventi migliori dove shoppare le gemme su Brawl Stars e se lo fate mi raccomando andate in fondo al negozio e mettete il codice LOLLOCHEF che vi aumenta del 100% la possibilità di cucinare Ah, e potete farlo anche in tutti gli altri giochi Supercell e soprattutto sul Supercell Store Let's go! Ragazzuoli, eccoci qui tornati su Brawl Stars, siamo in compagnia dei ragazzi di Twitch che stanno scrivendo Guarda questi chef, perché oggi è tornato un format che aspettavate da un po' di giorni, lo so che lo bramate, lo so che mi volete vedere valutare i vostri account Valuto i vostri account di Brawl Stars Ormai il procedimento lo sapete, andiamo a fare delle 5v5, quindi praticamente metto delle mappe nelle amichevoli Prendo i vostri account e li valuto con un voto da 0 a 10, a volte posso andare anche in negativo e sapete già quali sono le regole In generale comunque cerco di dare valore anche ad account che non hanno tante coppe, mi piace proprio vedere i vostri account Abbiamo trovato degli account assurdi, gente con tutti i rank 35, gente con tutti i brawler a 104 coppe, gente con tutti i brawler a 69 Gente con un brawler rank 35 livello 1, o lie, o lie pure, vediamo oggi che cosa ci aspetta ragazzi Non c'è purtroppo nessun premio in palio perché adesso non ci sono delle skin, l'ultima volta abbiamo regalato quella di Bulminotauro che state vedendo in questo momento Se volete entrare ragazzi YouTube dovete purtroppo passare nelle mie live, che vi ricordo che faccio alle 1 e mezza di pomeriggio e alle 8 e mezza di sera ogni giorno tranne il sabato Andiamo nelle battaglie amichevoli e i primi che riescono a mettere il codicino ed riescono a entrare in esercizio di stile, in questo caso di footbrawl, sono i primi che verranno valutati LL Edo Gamers, che tra l'altro ho negli amici perché è abbonato al mio canale, lui è un grandissimo sostenitore Ha LL nel nome, è 1G, infatti ha scaricato il gioco nel 2018, ha un tag particolarmente corto e soprattutto a l'iconcina del primo anno È nel mio club addirittura, quindi nel club della laguna, ha 45.000, il trofeo ha raggiunto leggenda 2, in questa season è leggenda 1, in sta season arrivare a leggenda 1 vuol dire che è uno che ne sa ragazzi È uno che ne sa ma nonostante questo nel profilo da battaglia ha scritto che è un bot, ha un bellissimo brawler preferito che è Brock, che probabilmente ha preso con il codice lollo chef nel pass, lo conosco il bro È a 3.000 vittorie in 3v3, 1.000 in singolo e 2.000 in 2, quindi praticamente gioca in tutte le modalità del gioco Mamma mia, mio fratello, mio fratello ragazzi, guardate qui, Nita, Jesse e Dynamike nella top Poi abbiamo Barry che adesso è fortissimo, ha fatto benissimo a pusciarlo, tra l'altro livello 9, grado 25, non è da tutti Poi ha Brock, Sandy, Jackie, Chuck e se scendi giù, guarda qui, guarda qui, guarda qui, Edgar Stray in basso, ok Kit praticamente inesistente e sotto abbiamo Miko La top 9 però, la top 9 finale, potreste portare più su bro, ci sono dei brawler carini Sam sottovalutato, Tic, che è il mio secondo brawler preferito, lo voglio vedere più in alto Ma in generale, LL2GamersMyMan, va a toccare darti un bellissimo voto, io gli darò un 8 Sinceramente gli do un bel 8, ha proprio un bel profilo Poi abbiamo Samu, con il cuoricino nero che ti dà un punto in più Tra l'altro ha il profilo tutto pulito perché non ha, non lo so, pin, icone giocatore e ha bellezza unica Il bro è un po' egocentrico I guess È arrivato a 9700 nelle rank ed è a sto giro, è attualmente a leggenda 3, quindi è molto forte In sta season, ragazzi, fare master è davvero difficile 14.000 win nelle 3v3, non gli piacciono le singole e le duo, quindi è uno che proprio del gioco ne sa Parecchio ne sa, proprio a tonnellate ed infatti vediamo nella top 9 Mortis, Stecca, Colt, Gelindo, Nita, Bel, Bea, Jesse e Eugenio Tutti al grado 30 Crazy, eh? Veramente crazy, ragazzi Soprattutto sono tutti brawler schillati Poi se andiamo sotto c'è un kit nascosto che palesemente ha droppato prima di entrare O addirittura mentre è entrato, io vi conosco Edgar non è tanto alto, vabbè, comunque ad un profilo del genere c'è poco da dire È uno che sa giocare, ragazzi E il fatto che, guarda, Miko però l'ha lasciato là sotto, eh Mi sa che l'ha sbloccato da poco, anche Cordelius Cordelius tocca portarlo su, bro, anche Charlie Guarda quanti brawler all'uno, non sarei sorpreso se fosse free to play, Samu Bravissimo, my man Devo darti un 8 e mezzo, Samu Sincero, veramente un profilo devastante Ehi! Ti ho visto che non ti sei iscritto al canale E soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi due litri d'acqua al giorno Che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta Stay Focus My G, guardalo qui Nel club I Bomber Friends Ha una serie di vittorie di 28 L'Immortale, qui che cosa abbiamo? Account creato nel 2019, quindi è uno G Ha sbloccato due nuove skin, tra cui quella di Rico che mi manca Sono molto geloso di questa cosa Ha 8000 win nelle 3v3 E la sua top 9, ragazzi sono scomparsi Tutti Kit, Edgar e Miko Mi avete ascoltato, è incredibile Qui abbiamo Meg, Pearl, Barry, Nita, Mandy, Larry e Lowry Angelo, Fang e Sandy Molto molto rispettabile Ovviamente appena lì nascosto c'era l'Edgar Perché si ha mai, ragazzi Qui abbiamo Jesse, molto bella Kit relativamente basso E non vedo Miko Eccolo lì, sarà in basso pure Miko Questa cosa ragazzi, per chi fosse nuovo La cosa di Edgar, Kit e Miko Lo dico perché sono dei brawler Che richiedono praticamente zero abilità Richiedono abilità sopra magari le 850-900 coppe E lì iniziano ad essere un po' difficili Tranne Kit Anche lì Kit rimane molto uno skill Ma fino alle 800-850 sono gratis Letteramente gratis come brawler Quindi vederli in basso vuol dire che è uno che si impegna a giocare E che ce la mette tutta Mmm, li darei un 7 e mezzo onestamente E voglio vederti arrivare a Master Anche se è difficile Cioè è arrivato, probabilmente gli mancava una partita la scorsa season E mi dispiace un botto per lui Poi qui abbiamo Giulio Che è arrivato anche lui a Master in questa stagione Quindi è un king Ha, ragazzi, la maestria di Doug Paninaro Top Io non ho mai visto questa maestria Ha la Emo del Cucinare Che gli dà un vantaggio in più E soprattutto a Count creato nel 2020 Quindi è uno che, ragazzi Spinge, ma non spinge dai tempi d'oro Quindi vuol dire che è diventato forte negli ultimi anni Bravissimo Non capisco il perché di questa però Winstreak di 18 e basta Puoi fare molti di più Giulio Mi sa che gioca con i random Ha portato Energetic Jackie Frank Miko Al grado 30 C'è anche l'Edgar A Doug Che immagino sia il suo Mmm, no Chi è il suo brawler preferito? È Surge Che tra l'altro è quello che ha portato più in alto Qui ha Kit Che è un po' droppato In generale Mi sa che è uno che gioca tanto le duo showdown È quello che mi pare di capire Perché brawler da 3v3 Li vedo molto in basso Questi brawler proprio Sono quasi strettamente da 3v3 Questi li puoi giustare molto in duo Sì, secondo me è un giocatore da duo Ho questo presentimento Però è arrivato a Master Quindi vuol dire che sa giocare Anzi Mi sa che è anche molto forte Bravo Giulio Bravo Nonostante tutto ti do un 7 e mezzo Qui abbiamo Ale Che ha un'icona profilo Che non ho mai visto In teoria la possono fare customizzata Solo i creator Ma fa niente È nelle aquile italiane Venti di Winstreak Minaccia invisibile Cos'è minaccia invisibile? Leon Mi sa che è main Leon il bro È arrivato attualmente in record Nella sua classificata Buonissimo A 9000 win nelle 3v3 Account creato nel 2019 Tra l'altro ha giocato anche La vecchia Power League Incredibile A Piper Meg Sandy Iris Colette Jackie Melody E ce n'è uno che ho saltato Che non nominerò Che ormai conoscete Sì è Leon Ok Leon però Dov'è Leon scusa? Leon ce l'ha qui a 729 Ma nonostante questo È riuscito a fare la maestria Ok Quindi vuol dire che il bro Fa un po' fatica a superare Quello che è il grado 25 E ci sta Però ha portato comunque tutti A 500 coppie Che è una cosa che è ammirevole Perché ha fatto poi un sacco di trofei È arrivato a 51.000 Se arriva ai trofei alti Ragazzi io ve lo dico È difficile spingere Quindi Ale mi raccomando Cerca di bilanciare Comunque il fatto che tu pushi Un singolo brawler Con il fatto che Li porti su tutti quanti È una cosa che ho fatto anche io Purtroppo l'errore di mettere Tutti i brawler ad un certo livello Poi pushare è davvero difficile Però continua così Ale Ando forte my man Mi stai piacendo Let's go Mi diamo un bel set Poi qui abbiamo Kronos Kronos ragazzi È uno che ne sa Io sono arrivato a 70.000 coppie Di recente Lui ne ha 74.000 Con 21.000 win Nelle 3v3 Singole duo Sono molto simili alle mie È arrivato a 9.541 Nelle ranked In questa season Sta andando oltre le 9.000 Che è una follia bro Partner ideale Che se non sbaglio È la maestria di Rico Che tra l'altro ha oro Ed è il suo brawler preferito Il bro fr Ha un'icona profilo bellissima Che se non sbaglio È quella di Rico gallina Anch'io dovrei avercela Mi piace un sacco Proprio il profilo così Come è presentato Con i colori Con il giallo Che penso sia il suo colore preferito Ragazzi Partiamo benissimo E continuiamo benissimo Guarda qui A Stecca Jackie Charlie Angelo Buster Colette Hank Sottolineiamo Hank Larry Elori Ed Energetic Nella top 9 Una top 9 Veramente particolare Guardalo lì nascosto Guarda lì il gatto Porca vacca Bull Che gli manca una partita bro Me la devi fare oggi Sta partita Che c'è una mappa bellissima Per Bull La puoi chiudere tranquillamente Dice amico Dove cacchio è Edgar Ah infatti è lì Abbastanza in alto Però comunque si parla Di alte coppe È uno che ne sa ragazzi Cioè il suo brawler più basso C'ha 819 coppe Kronos Sinceramente ti devo dare un bel 9 bro Ti devo dare un bel 9 Hai un account devastante Kronos Abbiamo il totem lavatrice Li devo richiedere l'amicizia Perché è abbonato Il mio fratello 34.000 coppe Con mi pur No 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 Aspetta 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 Lasciamo stare tutto il suo profilo Quando ho creato l'account? Nel 2022 Se io apro E c'è come primo brawler Kit Visto che hai mi pur Dono le zampe Lavatrice La mia richiesta di amicizia Verrà ritirata Ma? Bro? No aspetta C'è qualcosa che non quadra Ma è me Guardalo Guarda No ragazzi Questo è Questo è veramente imbarazzante Tutti i brawler Al grado 25 26 Kit Grado 27 Casualmente a 740 Qua Il bro mi conosce Il bro ha fatto una cosa ragazzi No 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 Qua l'ha droppato apposta ragazzi Ed è c'è Adgar appena lì sotto E mi guardalo Guardalo No dai Sinceramente 6 e mezzo Poi qui abbiamo Laika Phoenix Dark Samurai Se ti becco È finita Ok Non so bene Chi è se ti becco È finita 2000 win nelle 3v3 Immagino abbia creato l'account Nel 2019 Pure 1g Ok Grow Grow è il suo main brawler Tra l'altro se l'è fatto pure dorato Il bro deve flexare al massimo E ce l'ha 800 coppe Tancato dalle 850 Quindi comunque Il suo skill cap Si aggira intorno Al grado 24 25 Secondo me Se dovessi valutare Poi alcuni brawler Secondo me li ha portati anni fa Perché tipo Pocho Non me lo bevo Che l'ha droppato così tante coppe Cioè È impossibile E ha tanti brawler all'uno Che ha portato su Nonostante tutto Cioè C'ha Bea Livello 1 A 249 C'ha Tic Livello 1 A 315 Aspetta No ragazzi Questo Edgar È l'unico Edgar Che potrei No ma è il primo No Piper livello 2 A 400 coppe Ma Il bro Il bro vuole giocare Ma non ha Non ha le risorse Like a phoenix Bello sto account Vi diamo un 7 e mezzo Il bro è mighty Non leggeremo il resto del suo nome Ha il profilo Molto pulito Ha l'e-mod del cucinare È un bot 3700 Come io Io mi chiedo Come fate ad arrivare a 40.000 coppe Con 3000 win Nel 3v3 Cioè io ne ho dovute far 20.000 Nel 2019 E questo giocava nel 2019 Quindi è ancora più assurdo Però la top 9 Mi piace ragazzi Leon, Chester, Eugenio, Boss Sandy, Energetic Pearl, Piper e Frank Con appena sotto Un Edgar E un kit belli nascosti Immagino ci sia anche Mico Da qualche parte Vabbè Mico Ah Mico è bello sotto Vabbè Chill Un bel profilo Ovviamente gli ultimi Oh questi qua Questi profili sono proprio Ti fanno capire quali sono i brawler Meno usati nel gioco Letteralmente La classifica dei brawler Meno usati Chuck Hank Grom Goose Sam Ringio Lola RT Che non usa mai nessuno Per qualche strano motivo Ash Eve Charlie Anche se è fortissima Probabilmente perché l'hanno nerfata 7 volte Buster, Bonnie È incredibile Va bene Va bene Gli daremo un 7 La prima è andata bene Sono contento di voi ragazzi Mi state rendendo sempre più fiero Ogni volta che faccio queste valutazioni account Ci lascio giù i capelli Che già non ho Incredibilmente il vostro kiwi Non ha mai i capelli Però a questo giro Vi posso dire Sono fiero di voi Sono contento Prima un ospite speciale Devo valutare l'account Di un ospite speciale Che penso sia anche in chiamata Che è Juned Che ha recentemente fatto le 100.000 coppe Non si è fermato Il bro è a 100.245 Juned Ma man Hai pure l'icona del creatore Che è una cosa molto rara Ha la banana Ha Pocho Maestro Che se non sbaglio È la maestria di Chuck Lui è uno degli italiani Con più maestria di tutti È arrivato a 11.000 Nelle rank E da adesso è arrivato a 9.800 Vabbè Le 100.000 coppe Descrivono già quanto è forte giocare Ha 52.000 win Nelle 3v3 E guardate qui Che profilo ragazzi Guardate qui Nita Frank Semino Vabbè Facciamo prima a dire quelli Che non sono al grado 35 È una cosa incredibile Aspetta ma ha fatto full 35 No non ancora Però siamo lì per il full 35 C'è da tenere lo docchio il bro Li darò un 9.500 Solo per non dargli la soddisfazione Di dargli 10 E glielo daremo Quando farà tutti al grado 35 Vai Juned Anche se bro È tipo un account Da 12 questo Cioè cosa ti devo dire L'unica cosa godo Perché ti ho superato la win streak bro Però tu mi hai superato Con tipo 30.000 coppe Ma questo è un altro discorso Allora ragazzi Che abbiamo qui di bello Abbiamo Olli Olli Che ha 60.000 coppe Molto molto clean questa cosa Occhio di Falco Che dovrebbe essere La maestria Di Piper Oppure di Bo Non ne sono sicuro 9.300 È arrivato nelle ranche Da sto giro è arrivato anche lui A 9.000 spaccate Probabilmente ha provato ad andare oltre Ma si è accorto che è impossibile A sto giro Ha count creato nel 2019 No allora Cosa? Questo è un mostro ragazzi Piper ha 1.400 coppe Sandy ha 1.400 coppe Colta 1.300 coppe È un pazzo È fortissimo sto ragazzo Poi c'ha tutti i gradi 30 qui Tutti 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 Grado 30 Qui li ha un po' droppati Ma storicamente sono stati portati Al grado 30 Immagino che abbia fatto questa cosa Anche nel 2019 Quindi uno che secondo me Era il raggio di brutto Qua ci sono tanti altri brawler Che ha portato su un po' tutti Mi fa ridere che ha Tantissimi brawler a 300 Ma nonostante questo Ha 60.000 coppe Questo perché Probabilmente ha un'abilità innata Un profilo che non mi aspettavo Onestamente Mi sono anche dimenticato Di vedere i kit GG però Con il beneficio del dubbio Li darò un bel 9 Vabbè mi hai sorpreso Anzi 9 e mezzo Mi hai sorpreso veramente tanto Abbiamo Axel TTR Axel Un profilo molto tranquillo Con l'Immortale Flexa Brock Mortis E Colt Dorato Che immagino sia il suo brawler preferito Ha 3400 win Nelle 3v3 Quindi immagino abbia giocato A iniziare dopo E ha una top 9 carina Il bro sta iniziando A prendere Dimestichezza con il gioco Secondo me O comunque ha ripreso a giocare da poco Colt Brock Mortis Dynamite BB Energetic Piper Stacca Shelly E se si scende ragazzi Aspetta è un mico lì Ma gli altri No L'account perfetto No aspetta un attimo No ragazzi Edgar droppato dal grado 17 A 100 coppe Chi è questa leggenda Questo è Questo è uno che mi segue davvero Questa è una leggenda Ma bene io ti do 8 e mezzo bro Tu sei pazzo Sei mio fratello Axel Poi abbiamo Papa Francesco ragazzi Quello vero Che ha sul profilo No qua mi No 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 Aspetta Questo ha sul profilo kit E sta sfoggiando Il suo brole preferito Che è mico Alla maestria Qui comando io Ha cose di kit Sul profilo E il quarto anno Quindi ha iniziato a giocare Nel 2022 Con 2500 win Nelle 3v3 Io se apro Il suo profilo E vedo kit Questa si prende La prima insufficienza Oh 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 No ragazzi Io mi devo alzare in piedi qui Brawl star Signori di super Se l'aiutatemi voi Kit Edgar Frank Che dopo il buff Non ha senso È letteralmente il brawler Più rotto di sto gioco E spero che lo nerfino Mico Sandy Che è diventato top 3 brawler Larry e Lowry Che non ha senso Anche lui Fang Ragazzi Io mi devo sedere Mi devo sedere Oh Eonna Bro io ti do uno Papa Francesco Il Papa Francesco Non sarebbe mai main kit A meno che lo fa Per cercare chi bestemmia Per tipo scomunicarlo Non Eonna Papa Francesco Non hai superato il test Del lollo lacustico Ok Qui abbiamo Laro Che attualmente È a bronzo 1 Nelle classificate Ma il suo record è 9000 Sta cosa è Bruttissima da vedere Laro Però vuol dire che sa giocare Ok Contrato nel 2022 Tra l'altro Qua mi dovete aiutare Chi è star dell'azione Star dell'azione Non l'ho mai visto ragazzi Questa cosa parte già bene A parte il pagliaccione Che c'era lì gigantesco Allora io Spero di aprire E vedermi tipo Un brawler assurdo No 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 ragazzi Dynamike livello 1 Al grado 32 Pearl Grado 32 Fang livello 1 Grado 32 RT Livello 11 Grado 33 Maisy Otis Vabbè gli altri sono abbastanza normali E Buster Immagino sia la maestria Adesso non lo so Però questo è un pazzo ragazzi Come cacchio li hai fatti Quei brawler livello 1 È un account Cursed ma A livelli estremi Guarda che fare un grado 32 32 livello 1 O giochi nelle 5v5 Ti fai carriare O Non lo so Beh io sono stupito ragazzi Vi diamo il beneficio Del dubbio E se Fosse effettivamente così Questo account è assurdo Vi do un 9 e mezzo Damn L'account più strano Che io abbia mai visto Qui abbiamo Lolloman Il bro è un lollo Anche lui A 12.000 Vittorio nelle 3v3 Quindi sicuro È iniziato a giocare Nel 2019 Infatti Ha l'icona dell'uno Ha l'icona del cucinare L'icona dello swag E a 50.000 coppe È arrivato a Mito 2 Secondo me potrebbe andare Anche più su 19 win streak E apriamo una top 9 Particolare Ringio Io non so perché Lo sto vedendo ultimamente Nelle top 9 Secondo me la gente L'ha iniziato a rivalutare Però Ringio È tipo la versione Wish di Rico Poccio ci piace Frank ovviamente molto forte Brock come primo E Jackie Mico Ok Edgar per lì sotto Quali sta facendo tutti a 7.50 Kit che ha droppato Da 7.50 A 6.99 Ci può anche stare Brawler un po' dimenticua C'ha un sacco di brawler forti Che potrebbe pushare Mamma mia C'hai Melo Hai Melo di Barry e Lily Che sono tipo top 3 brawler In questo momento E il fatto che siano sotto È molto strano C'hai Charlie bro Hai Byron che è fortissimo Hai Meg che non ha senso Dai Keep going bro Però mi piace Mi piace il vibe Li diamo 7 Voi mi dovete spiegare ragazzi Come i 2009 Siano la generazione più forte Su Brawl Stars Cioè veramente I 2009 hanno una marcia in più Cioè me l'ho spiegato Io c'ho 7 anni in più di voi 7 7 Ma i 2009 riescono comunque Ad essere dei mostri Tra l'altro in top italiana Nella top 5 Mi sembra che c'è un 2010 Una roba veramente assurda ragazzi Assurda Il bro con 16.000 Vittorie nelle 3v3 Quindi immagino abbia giocato Nel 2019 Quindi nel 2019 Era praticamente 5 anni fa ragazzi 5 anni fa Cioè aveva tipo 10 anni Non lo so È nella Humble Academy Quindi è uno che comunque Ne sa Ha la cosa di Ash Di Stu Del cucinare È un bot Brawler preferito Macy È arrivato a Master A sto giro è arrivato a Legenda 2 Che è difficilissimo Ok Non giudicheremo quel kit Facciamo finta di niente Passiamo oltre Macy Un brawler molto skillato Un brawler molto difficile Che è il suo brawler preferito Bro ti tocca farti la maestria qui Gli altri sono rispettabili Anzi sono molto rispettabili Soprattutto Tara Che aveva fatto al 30 E anche Buzz E qui possiamo notare Che non è uno che ama Tanto usare brawler no skill Gli piace piuttosto usare Dei brawler Che richiedono delle abilità Infatti gli altri Un pochettino più spam E un pochettino è Gli ha tenuti sotto Mi piacerebbe vedere quella Penny Bella in alto bro Hai un bel profilo Lore E un bel prodigio qui Confino in te 8 e mezzo Lore Merego Mi sale il crimine Ora non ricordo di chi ha la maestria Ha il gold delle ranked del 2021 Che è molto raro Un bel flex Ha Piper Ha l'omino di marzapane Ha creato l'account del 2018 Quindi è uno G Infatti ha il tag a 1, 2, 3 4, 5, 6 No 8 ok Dove 1500 è arrivato a Master In questa season Ti prego non deludermi bro Mi sale il crimine di Bell Ok Bell non è nella top 9 Il che è molto strano Angelo l'ha fatto al 30 E ha fatto bene Perché Angelo è ancora forte Nonostante tutto Buster In quella top 9 Migasa Migasa perché Comunque questo Ha dei brawler molto schillati Ragazzi Molto molto schillati Dove cacchio? No scusa un attimo Dove è Bell? Ah è lì Ok l'ha un po' droppata Ma niente di che Però è andato Abbastanza dritto Abbastanza forte Un sacco di brawler 1, 2, 3, 4, 5 Devo dirvi Questo account Mi piace ragazzi Qua un sacco di brawler Che si possono portare su con calma Quel kit Guarda che è già partito a pusharlo La 17 coppe Stai molto attento Quanto porti in alto Quel kit Però per il resto Un bel 7 e mezzo Pigna 55.000 coppe È arrivato nel 2018 2019 Nel gioco Ok 4.000 win Nelle 3v3 È arrivato a mito Quindi bro Diciamo che ha Un'abilità nel gioco E sono molto curioso Di sapere la sua top 9 Onestamente Ok Li diamo un bel 4 e mezzo Ragazzi E passiamo subito Al bro dopo Paperello My man Nel club polpette È arrivato a mito 3 E a questo giro Secondo me potrebbe arrivare A leggenda Lo vedo bello caldo E Alla imo del cucinare 3.000 win Nelle 3v3 Qui abbiamo Accantilato nel 2019 Una top 9 Degna di essere Chiamata tale Ragazzi Nita Spike Crow Tutte e due brawler Molto molto validi Jackie Shelley Stack Sandy Stu Eh vabbè Edgar Lo sappiamo Ormai Ogni tanto salta fuori Un Edgar Però aspetta Il bro non ha amico E non ha kit Assurdo Il bro è stato costretto A giocare dei brawler Schillati E ha eseguito Tutto molto bene Voglio vedere quella Nita grado 30 bro Let's go Paperello Let's go Per ora ti darò Un Oh Eh è un bel profilo Sincero Rivettiamoci gli occhiali E partiamo Subito Con Ale Che ha un Bo In lobby Quindi magari stava pushando Bo Con 30.000 coppe Non ha una Una emote sul profilo Bro io ti consiglio Quella del cucinare Che ti aumenta la possibilità Di cucinare del 100% Come il codice Lollo Chef D'altronde Qui al peperone Thank you Un profilo molto tranquillo Mi sa di una persona Zero tossica Ed è una cosa bellissima 3.900 win Nelle 3v3 Gioca anche molto solo Accantilato nel 2020 Una top 9 strana Un mico Primo posto Divertente Mico Sinceramente Mico l'ho rivalutato Ragazzi Mico nella top 9 Non è più una cosa Che diciamo Mi sbilancia così tanto Però Bo Buster Bea Taras E mi non ci piacciono Questi sono brawler Che sta recuperando Con il tempo Perché secondo me È tornato a giocare Dopo tanti anni C'è anche un kit Quello non lo recuperare Quello lascialo benissimo Dov'è Rendiamo il gioco Meno Toxic Qui abbiamo Edgar Vabbè Questi sono tutti i brawler Che aveva portato su Nel tempo E che secondo me Potrebbe portare ancora su Confino in tebro Poi qui abbiamo Abbiamo Zarlis Che si chiama Zarlis Mi Mi Ripeteresti Qual è il tuo nickname In gioco È un po' È un po' esotico bro Non voglio essere Quel tipo di persona Ma questo mi sa proprio Di un nickname esotico bro 3800 win Dalle 3v3 Account creato nel 2018 Quindi è un account Molto raro bro Adesso Non riesco a prenderlo Seriamente 39 serie di vittorie Drago dorato Il bro è Ossessionato dai draghi Letteramente C'ha i draghi ovunque Sul suo profilo Se apro e non c'è Il cacchio di drago Come primo brawler Bro Dov'è il drago scusa Bro ti tocca portarlo Come primo Dov'è Ah guarda che lo sta portando su L'ha fatto all'11 però eh No aspetta in che se C'ha tutti i brawler all'11 Zio c'ha i grey Livello 11 A 128 coppe C'ha iva 92 Bo Il bro è un po' strano Il modo in cui Investe le sue risorse Ma non sono nessuno Per giudicare L'unica cosa che giudicherò È quel kit Per il resto Sta andando forte E secondo me Sei anche uno che caccia Un po' di grano In questo gioco eh Non voglio dire ma Bisogna spingere cacchio Voglio almeno un rank 25 Quel Cordelius Era tuo bro Dracolo Voglio vedere il grado 25 Continua a spingere ma man Per il momento Gli daremo un 6 più Qui abbiamo Hiro Che flexa la vecchia skin di Penny Che bella mamma mia Attualmente è arrivato a Master Il suo record è a 9823 Quindi è uno che giocava Di brutto le ranked No aspetta un altro A parte il fatto che Ha il profilo da battaglia Con due cose che stanno bevendo Un succo con scritto diva Perché immagino sia main lola Ho appena notato una cosa ragazzi L'avete notato anche voi Vero 65.000 coppe Però attualmente ne ha 29.000 Hiro cosa cacchio Stai facendo bro 35.000 win nelle 3v3 Account creato nel 2018 È arrivato a campioni Nella Lega dei Club Quindi è uno che Ne sapeva ragazzi Ne sa ancora Oh cacchio No zi Aprire il profilo e vedere Tipo 3 brawler così in alto E gli altri così È una roba incredibile Li sta portando tutti a zero C'ha anche dei brawler tipo Il primo che è grado 30 A 195 coppe Questo io lo so Lo so che cosa sta facendo Qui la sua top 9 E tutto il resto Non c'entrano niente ragazzi Lui Vuole arrivare a zero coppe Per battere il record di win streak Non è perché ha smesso di giocare Secondo me Anche perché se smetti di giocare Te li portava tutti a 500 Non te li portava a 200 Questo c'è C'è lo zampino di qualcuno Che sta tornando a zero coppe E sinceramente No è troppo È troppo creativo Sto profilo ragazzi Poi Main Lola Cioè Chi cacchio è Main Lola Sobre lo stars Nessuno Bro Ti do nove e mezzo È un account devastante E ti auguro buona fortuna Per arrivare a zero coppe Poi qui abbiamo Praticamente inesistente Kit e Miko Lasciati lì dove sono Bro Mi gasi eh Mi gasi sinceramente Hai anche una bella skin Quasi uno E comunque se la studi Stile da vendere Dovrebbe essere la maestria di Bibi Che era uno dei miei bro Preferiti Quindi my man Io ti devo dare Otto e mezzo Comunque mi dovete spiegare Come avete sto super salad di qua Perché Lo vedo da tantissime persone Ah ma io da qui posso vedere Questo gioca a tutti i giochi ragazzi Questo gioca A E-Day Clash Royale Clash of Clans Squad Buster Ti mancava soltanto un gioco My man Un gioco Di cui io sono il king in Italia Guarda qui Boom bitch bro Unico in Italia Che gioca a Boom bitch Nel 2024 Adriano Tutti Avete l'icona modificata Ah pin maker C'è un sito per farti pin Ok non lo sapevo I mod del cucinare Profilo da battaglia Con dell'icone UG Il suo brode preferito È Colt Questo qui Che a me non piace proprio Sta skin Però ci può stare Tipo Colt della giungla Non so Come descrivervelo Setta di Mario 2000 win nelle 3v3 Immagino abbia giocato Dal 2020 Inaspettato Una top 9 tranquilla Ragazzi Una classica top 9 Di qualcuno che sta ancora Sperimentando con il gioco Con Edgar Che si è reso conto Effettivamente Ha una marcia in più Rispetto agli altri brawler Fortunatamente non ha ancora Sbloccato né Mico Né Kit Per il momento Adriano Ti diamo un bel 6 Poi abbiamo Big Anzi 6 e mezzo dai Mio fratello Big ha Ha la bellissima maestria Non so come si chiama La fama solare Ha solo cose del cucinare Quindi il bro è letteralmente Uno chef Si chiama Peak Clapped Bot Vabbè Immagino gliel'abbia dato automaticamente 51.000 coppe Con 7.000 win nelle 3v3 Ma gioca da un bot Gioca dal 2019 Infatti Ha Shelley Stecca Colt Gelindo Melody Edgar 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 Proprio Proprio Poteva essere Kit Mico Sempre quelli Bro un account normalissimo Non mi spicca particolarmente Mi piace soltanto il fatto Che hai tutte le mod del cucinare Quindi ti darò un bel 7 big Ma da l'altro ha una icona A Big TM Qui abbiamo Dani Sempre i 2009 Ve l'ho detto Sono dei prodigi ragazzi È arrivato a Mito Alla icon del cucinare Non andremo a commentare Il nome di quel club Account creato nel 2019 Smodata Quindi ha fatto anche Quella che era la vecchia Modalità delle Ranked Dov'è Dov'è Tagliamo corto Dov'è Edgar Ok Mico Kit Però Cordelius Come primo è bello Il bro Mi sai di una persona che Secondo me Ha un po' quella nota di tostico Non voglio essere Quello che sminuisce Ma secondo me Si è uno che imota Quando killa le persone Ho proprio questo presentimento Proprio il resto È un account decente Come sempre Ragazzi ve l'ho detto Gli ultimi brawler Meno usati Sono sempre quelli Hank Bonnie Chucks MRT Grom Sempre quelli Incredibile Dani 6 e mezzo Ema My Man Con 38.000 coppe GX nel nome Potresti mettere LL E cucinare ancora di più Lex ha una vecchia skin Che è bellissimo Questa skin qua di Sorge Che ora non c'è più Di un vecchio pass Ora è arrivato a Leggenda 2 nelle Ranked Ma il suo record è Master 7.000 win nelle 3v3 Gioca dal 2018 Un account OG Il bro E una top 9 Bellissima Con brawler skillati Ragazzi Piper Angelo Energetic Meg Corvo Maxine BB Frank Vabbè Frank Adesso è un po' Ecolette Incredibile ma vero Un Edgar droppato Un El Primo Droppato un sacco Ma magari li aveva fatti Tanti anni fa E mi sbaglio io Anche perché sto vedendo Questo Mortis E mi puzza un po' Carino Caruccio Dragobarry Ash Sono sempre quelli ragazzi Letteralmente quelli Che vi avevo detto Sam Grey Eve Goose Buster Hank Ash Sono sempre Quelli Ema Ti diamo un 6 e mezzo Anche a te Poi abbiamo Jess Punto di domanda O Non so come si legge Magari era una emote Che hanno rimosso Immortale È arrivato nel quarto anno Quindi il bro Gioca In realtà dal 2019 Strano che non gliela abbia dato 40.000 Coppe Con 7.000 win 3v3 Ho appena realizzato Che non vedete le win 3v3 Ma Va bene così ragazzi Brawler Che bello Vedere Jesse Jesse Sta un po' perdendo Jesse non viene giocata così tanto Però preparatevi Perché questa settimana ragazzi Dovrei riuscire a registrare una live Completamente in inglese In cui giochiamo con La doppiatrice ufficiale di Jesse Preparatevi per questa cosa Che è crazy Qua sempre lì Sempre quelli ragazzi È una ricorrenza incredibile Bene 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 Sono contento Anche questa è andata relativamente bene Abbiamo trovato un account Cursed E adesso facciamo l'ultimo giro ragazzi L'ultimo giro fortunato E vediamo Chi saranno le persone Che riescono ad entrare In KO Nella mappa Cripta vulcanica Cosa è entrato prima di tutti Solo lui sa come ha fatto Ale Eccomi qua Ma è possibile che tu sei sempre ovunque zio Incredibile Vuoi veramente che ti valuti l'account Sì Ora facciamo una cosa Te lo valuto in live Così poi diamo spazio ad una persona extra Allora Alex Disastro ambulante di chi è? Macy Ok Vabbè Content creator Già lo sappiamo Il mio compagno Con cui ho giocato di più Probabilmente 10.000 Pensavo di più nelle ranked Però ci sta anche 10.000 Adesso hai fatto master Tipo subito Sei un mostro Vabbè le win 3v3 zio Perché qua non si vede Io vorrei far vedere ragazzi Axel Perché ormai lo chiamiamo Axel Non è più Alex Kurenai È Axel Kurenai Quante win 3v3 ha 84.000 zio 84.000 Fra Non è che sono veramente un bot Cioè io ne ho 20.000 Penso di averne tantissime Cantilata nel 2019 Una ruota Deve essere 100k win Ok Poi tu sei arrivato a leggende e miti Che era tanta roba Nelle vecchie ranked Hai fatto Però non dovevo pusharle tanto Eh sì Io le facevo solo per le skin Sincero Anch'io praticamente Mamma mia Poi hai Stecca che hai appena fatto Lo so che è bello fresco Stecca al 35 Bombardino Quella Sandy mi sa un po' di fail eh Mi sa un po' di fail Axel Quella Sandy Bombardino non puoi fail Bro perché hai lasciato Bombardino 1204 Ma perché Quella volta Come tu Ha staccato Quando ho fatto le 1200 Su Hank Ok Quindi non ho più toccato Vabbè Gli altri Io lo conosco il tuo profilo Cosa lo guardo a fare Che lo guardo ogni giorno Per consigliarti brawler Ogni volta mi fermo Dico no Ce l'ha già mille Mille Che pazzo L'unica cosa che non mi piace Sai cos'è Axel Che ti manca un brawler Uno Uno per farli tutti al 30 Perché non fai quel Chuck Cosa ci voglia fare 100 coppe con Chuck Vai in random E ti fai le casse da solo Eh effettivamente Prossimo push Axel Aiuto Axel Curenai a fare il suo Ultimo grado 30 Però bro È un account devastante Andiamo a una bella rapina E lo facciamo Mi piace 9 e mezzo Axel Non ti darò 10 Solo per quella cosa lì di Chuck Che faremo assieme Poi ti darò 10 Bene 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 Vediamo se c'è qualche account particolare Se c'è qualcosa interessante Qui abbiamo QLS Giovanni 80 Con 50 5.000 Coppe Tormento Che è la maestria Di Buzz Ormai le sto imparando Furia di fare questa cosa Si imparano un sacco di cose È arrivato a leggenda Il Bruno riesce a pushare per campioni Che ti voglio vedere È nel mio club Giovanni Quindi tanta roba Giovanni 5.000 windle tra V3 Account creato nel 2018 Quindi il bro è un OG Dai tempi d'oro Probabilmente anche la skin Di Shelly Ha kit nella top 9 Lì in mezzo Proprio in bella vista Porca vacca Bull Che non è male Ah non è di Buzz È di Angelo Ah ok Qui c'è Edgar Amico Una persona che sta sperimentando Con il gioco Ma sta facendo quello step up Perché li sta portando tutti a 750 E devi andare un po' oltre Se ti posso dare un consiglio mio Io ho fatto lo stesso errore bro Ok ci sta portando tutti a 750 Però prenditi dei brawler E li provi a fare al grado 30 Perché poi quando dovrei fare da 750 in poi Sarà un inferno Quindi mi raccomando Giovanni Continua così Fatti anche su un bel team Perché mi sembri uno che ne sa E fatti pure sto master Che ce la puoi fare Let's go Ha un bel account Nonostante tutto Gli devo un bel set Qui ha Paura Mai E sta flexando una Melody Che probabilmente è il suo brawler preferito È arrivato a Leggenda 2 anche lui Attualmente a Leggenda 1 Sta season è tostissima Gli l'ho fatto per miracolo Grazie a Elena che mi ha aiutato Lui ha creato l'account del 2018 Quindi un account oggi Anche lui Leon Melody Maxine L'Ari L'Ari Corvo Fang Colette Jessie Lili Bellissima questa top 9 Bellissimissima E aspetta perché kit Ok no Quali sta facendo tutti a 750 Quindi Non li giudicherò troppo Perché le ha portate a 750 E le ha lasciate lì Quindi è uno che ne sa ragazzi È uno che Anche lì Stesso consiglio del bro di prima Non focalizzarti troppo su tutti i 750 Cerca di farti un grado 30 Perché così sblocchi quell'abilità che ti serve Per non rimanere poi bloccato dopo It going man Vediamo un bel set Qui abbiamo un bro Freschissimo Con 25.000 coppie Con 1200 vittorie nelle 3v3 Account creato nel 2023 Ah Oggi tutti OG tranne lui Incredibile Però un'icona OG Sul profilo da battaglia Ma va bene Big Black E il bro ha nella top 9 Ovviamente un Edgar Bello piazzato lì in mezzo Che però non è riuscito a fare il grado 25 Godo Questi brawler qui bro No come hai fatto Io mi chiedo Io non riesco a capacitarmi Com'è possibile Droppare un brawler Da 800 coppie a 700 Cioè È un drop importante ragazzi Però confido in te bro So che i randomini sono tosti Ma confido in te Mi raccomando Ragazzi usate i brawler Che vengono dimenticati Bombardino Ash Hank Tutti questi brawler qui Dategli un po' di valore Goose Berry Giocateli Giocateli tutti Che vi fa bene E vi aiuta a giocare meglio nel gioco Anche perché quando li usate Sapete come counterarli E tutto il resto Qua è Trico Trico è un grande Trico è uno dei miei primi abbonati In assoluto E ha fatto l'icona di Among Us Con il Supercell Make Vabbè Mi purdono le zampe A parte che è nel mio club Te lo giuro che se Io apro il tuo profilo zio E vedo che ci sono A parte che hai solo kit Io vedo solo kit Tu sei fuori dal mio club Trico Te lo dico Trico Main kit Edgar Lily Mico Ma almeno lui Almeno lui Mi hai deluso Trico Mi hai deluso E ovviamente ragazzi Sono sempre loro i meno usati Incredibile Trico Ti do 5 zi Perché ti voglio bene Non ti butterò fuori dal mio club Laro Laro che mi sa che è appena uscito Dalla top 100 No top 200 italiana Perché è appena lì 30.000 win nelle 3v3 6.000 win in singolo 4.000 in duo È arrivato a master Attualmente è a leggenda 2 Quindi è anche lui Uno che ne sa 76.000 coppe Ha la emo del pagliaccio Che non mi piace Vita spericolata Che dovrebbe essere Stu Accantilato nel 2018 Ovviamente È arrivato anche a campione Miti e miti Quindi è uno che Picchiava di brutto Ragazzi Ambra 1278 Il bro non si è fermato Non si è fermato A 1250 Tra l'altro il fatto che Si è andato oltre Con alcuni brawler Però No 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 Quella Jackie failata bro Quella Jackie grado 34 failata No Anche Jackie droppata Però per il resto Sì sei un mostro Kit basso Edgar basso Mico basso Vedete No anche qua però comunque C'è una top 9 Sempre degli stessi Sam Squeak Janet Semino Però strano vedere Mortis così in basso Ma man Io confino in te Ti voglio vedere con tutti i gradi 30 nel gioco Ti voglio vedere in top Italia Laro Continua così King Ti darò un 8 e mezzo Anche se sei tendente al 9 Qui abbiamo GX Da Quavis LL Il bro era un po' confuso Quindi nel dubbio ha messo tutto Ha Hank Che flexa sul suo profilo Con la emote del cucinare E poi qui che cosa abbiamo Count creato nel 2024 Questa è stranissima come cosa ragazzi E ha 24 di serie di vittorie Quindi rispecchia bene Una top 9 particolare Mista di brawler schillati Con brawler non schillati Non saprei E' uno che proprio E' indeciso ragazzi E' indeciso E' incredibile Rispecchia perfettamente Ha solo 42 brawler Quindi è difficile dare una valutazione Ma per quello che vedo Li do un bel 7 D'Aquavis Chill Eccolo qui Gabriel Che scrive anche in chat Eccomi Gabriel Io ho tanta Tanta fiducia in te Perché mi piace Questo è il primo Messo così Mi sai di una persona rispettosa Hai anche fatto il tuo coso Con il Supercell Creator Lì Con la cosa di strano online Hai il primo Che flexi al massimo Immagino tu voglia fargli La sua maestria Sei anche un free to play Perché non vedo niente Dei pass Nei club i Santi Goblin Quindi mi sai di una persona Appunto rispettosa 1300 win 3v3 Account creato nel 2024 Bro Se apro la top 9 E' il primo Seguito da kit My man Se non c'era quel kit Questo account Io te lo giuro Ti davo Ti davo 8 e mezzo Vabbè Gli altri brawler ne hai pochi Non mi sento di dare una valutazione Però mi piace che ti stai spingendo Anche con brawler particolari Tipo Goose Tipo Carl Ci sta Ci sta 7 Gabriel 7 Astro Che ha comprato il pass a questo giro Che ha un'icona Molto inquietante Sul profilo sinceramente Ha il nuovo pin Quello del Mewing Che ovviamente avrà preso Col codice Lollo Chef Allo Chef Come icona del profilo E' arrivato nel 2019 Quindi è 1G Bro Tu brawler preferito è Jesse Se io apro e non vedo Jesse Eh Questo è messo apposta Però bella Bella come top 9 Mi piace Carina Si sta venendo spesso questa top 9 Si sta un po' Modificando questo gioco Non vedo più Così Eccole lì Edgar Amico e Kit Tutte e tre lì Dov'è Jesse zio? Dai non me la bevo che Jesse È il tuo bro preferito Ce l'ha a livello 9 560 Questa è la strategia Per prendere più punti Astro Ma io ti darò un 7 comunque Bravo Sassan Con l'icona di Penny Con canaglia Che abbiamo visto prima Lex è arrivato a leggenda 2 10.000 win nelle 3v3 Account creato nel 2018 Mega ogil bro Oh Ma c'ha il tag a 4 No ragazzi Ha un tag a 4 lettere Voi non avete idea Quanto è raro Praticamente questo è un account Quasi del 2017 L'ID a 4 lettere Vuol dire che è stato Uno dei primi a scaricare il gioco In assoluto In modalità beta What? Ragazzi Tanta tanta roba Sassan Io ho un amico nella vita reale Che ha 5 tag E tutti lo invidiano Tu ne hai 4 Si Qua è proprio Puro flexing C'è anche gente che ne ha 3 Ma tu ne hai 4 Che sono veramente Tantissimi Stecca L'hai portato su di brutto Hai una top 9 Molto interessante Hai anche una Jesse Lì mi piace Kit Miko Vabbè qua ci sarà Edgar Da qualche parte Infatti è lì Che è stato droppato negli anni Ma l'avevi portato al grado 25 Un po' di tempo fa Nita Ok ok Almeno sono tutti sui 500 coppe bro È uno che può andare in alto E soprattutto devi andare in alto E immagina flexare nella top Italia Con un tag a 4 bro Incredibile Io voglio vederti in alto Sassan Continua così bro Hai un account molto raro E solo per questa cosa qui Ti do un bel 9 Anche per la tua Hai proprio un bel profilo bro Anche il fatto che tu abbia Penny Che era uno dei miei brolei preferiti You cooking Qui abbiamo Pecorino Che ha appena toccato anche lui Le 70.000 coppe Con un profilo cattivissimo Con la nuova skin di Rico Icona del cucinare Un'icona che non so da dove viene L'icona di Shelly OG Quindi è un OG immortale Account creato infatti nel 2018 Lui ha 7 tag come me Quindi anche lui è abbastanza OG Arrivato a Master Immagino tutte le volte Ha un po' di win in singolo in duo E ha fatto C'è Lindo Master E Meg di recente grado 30 Anche Frank che è molto forte Immagino l'abbia resettato la season Stecca Qui ha droppato un po' Ma secondo me si sta concentrando Sulle coppe generali del profilo Infatti ce l'ha tutte a 800 Praticamente Ma l'ultimo è Kit Ho visto solo ora che Kit Mico ed Edgar non sono così in alto Not bad pecorino 9 pecorino Bell'account Beh guarda come esce cattivo quel colt Con la emode del cucinare 3000 win le 3v3 Chiudere il più forte si chiama Account creato nel 2018 La cosa che mi fa piangere il cuore È vedere tipo quella Iris livello 8 Che ha pushato in altissimo E Edgar livello 11 Zio Pera Zio Pera Poi Mico l'ha lasciato lì in basso E va bene tutto Però quel Non ha neanche Kit God God va bene Bro Qua il potenziale c'è Devi un attimo utilizzare meglio le tue risorse nell'account Quindi ti diamo un 6 di incoraggiamento Xudere E let's go Ragazzi Questa valutazione account è stata la migliore in assoluto Io non ho mai valutato degli account così particolari Così belli Non ho mai visto così pochi Kit e Edgar Mico E sono contentissimi Devo dare una valutazione generale a questo episodio E gli devo dare un 9 È il primo episodio a cui daremo un 9 E sono super contento La Custri Io vi ringrazio tantissimo della visione Come al solito Se volete vedere altri miei due video Io ve li lascio qui E noi ci vediamo al prossimo Let's go